Fernando palla dietro, con grande rapidità di movimento, riesce a innescare Georg Krozer. Keita riceve, ma nel campo avverso è Davieskiba, passa in diagonale. Molta, riceve comunque bene Keita, cortesia, c'è comunque la difesa di Cacioppa, rischieva sì e organizza per l'attacco, fastidia bene il muro a 3, attaccia diventa a 2 e la palla termina out. Nastro, Beretta riceve, Beretta attacca, sono i due centrali italiani, il primo attacco è di Beretta. Fernando, Krozer. Krozer questa volta, c'è la difesa, si allunga, veramente di la Keita e poi, mamma mia, segno, Cacioppa. Krozer combina benissimo con Galassi. Fernando, Krozer. Nel semifinale, adesso poi trova estremamente in difficoltà con questa ricezione, riesce a metterla di là Motic. Ma poi è implaccabile. Lunga lunga, poi il grande attacco di Brozer. Rai. 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 Grazie a tutti.